Voi, oh, fatemi largo! Nei giorni che furano, c'erano due guerrieri. Ucciderei per un rotolino piccante al tonno adesso. Prendi qualcosa anche tu. I fratelli si allontanarono e una nuova età ebbe inizio. L'età di mezzo. Papà, lo zio Ted viene per Natale quest'anno. Amore, a volte capita che ci si allontani. Sio Ted! Quanto mi sei mancato! La mia ragazza. Non puoi risolvere tutto con i soldi. Invece sì, Tim. Non sei cambiato affatto! Sei ancora un bambinone! Ciuccia Ted! Tu, ciuccia! Levami quel ciuccio dalla faccia! Scusatemi! Non vorrei interrompere questa avvincente conversazione. Ma perché non ciucciate entrambi? Sa parlare! E come? Sono negli affari di famiglia e ora voi lavorate per me, Boomer! La Baby Corp ha sviluppato una formula che trasforma un adulto di nuovo in bambino per 48 ore! Vorresti che ridiventassi un bambino? Sì, questa è l'età critica! La Baby Corp offre un totale reset della memoria subito dopo! Allora, qual è la crisi? Un genio del male insegna i bambini a essere tanto, tanto cattivi! Benvenuti nella Baby Rivoluzione! Ci serve un travestimento come copertura! Cosa mi avete fatto? No, cioè... Marina Reddy! Oh no! Grazie che mi copri sempre le spalle! Sei mio fratello! Noi siamo sempre uniti, le famiglie servono a questo! Dobbiamo sbrigarci prima che l'effetto svanisca! Ma che... Ma che guerrierini! Quanto siete carini! Fermi! Ma cavolo, cavolo, cavolo! Che ne pensate? Con un po' di soldi risolviamo? Oh, cazzarola!